Si apre un anno scolastico che vede una scuola nuova ad attenderci. La FIDE a piena voce rilancia lo slogan che da mesi ci sta accompagnando. Hashtag vogliamo fare scuola, che oggi significa esserci. Ripartire in autonomia, responsabilità e sicurezza. Abbiamo preparato le scuole per accogliere i bambini, i ragazzi, i giovani a cui diciamo vi stiamo aspettando. Le nostre scuole senza di voi perdono ogni significato. Ai genitori diciamo tranquilli, ci prenderemo cura dei vostri figli. Ai docenti, ai presidi, ai direttori, ai gestori diciamo questo è il momento per dimostrare di essere una vera squadra. Siamo pronti a ripartire insieme. L'esperienza in cui nel marzo scorso siamo stati catapultati ci ha spinto a fare rete e ora non possiamo più camminare da soli. Dobbiamo andare avanti insieme, con speranza. Nessuna scuola può essere un'isola. Abbiamo pubblicato in questi giorni le linee guida per abitare la scuola da settembre 2020 che forniscono un modello di riferimento importante rispetto al piano della didattica digitale richiesto dal Ministero della pubblica istruzione nel piano scuola 2020-2021. È composto da 21 appendici integrative della parte generale che contengono modelli e buone pratiche a cui tutte le scuole, dall'infanzia fino ai licei e alle scuole secondarie di secondo grado, potranno attingere per costruire la propria offerta programmativa per il prossimo anno scolastico. A fine giugno sono state riconosciute dall'ente di normazione come prassi di riferimento, Uni PDR 89, e sono anche a disposizione di altre attività che svolgono attività assimilabili a quella scolastica, ad esempio anche i centri di formazione professionale. Adesso vorrei accompagnare il nuovo cammino consegnandovi delle parole che iniziano per esse Sicurezza Applicando tutti i protocolli necessari Squadra Non camminando da soli, ma creando reti tra scuole, territorio e con la comunità ecclesiale e civile Soluzioni Non spaventiamoci Davanti alle difficoltà troviamo rapide soluzioni Nessuno ha le formule magiche, ma la fiducia in Dio e le tre parole che iniziano con esse appena citate Saranno la nostra tabella di marcia che scandiranno l'anno scolastico 2020-2021 La FIDE continuerà ad accompagnare le scuole con tutte le opportunità possibili A fine agosto il Consiglio nazionale da Palermo ha lanciato un massaggio che diventa augurio per tutte le scuole Gratuitamente abbiamo ricevuto la missione educativa, gratuitamente confermiamo la nostra disponibilità a rispondere a tale chiamata Tesa a vedere nella scuola un bene comune che guida le nuove generazioni a vivere nella società vincendo la paura con grande audacia e coraggio Un anno scolastico di una scuola rinnovata si apre e tante sono le attese, i desideri, le speranze, i sogni Spero e auguro che il desiderio di sognare e sperare in grande per i nostri studenti sia sempre vivo e creativo Una vita senza desideri, senza sogni, senza speranza è triste, è povera e diventa inutile Noi educatori lo dobbiamo ai giovani che ci sono affidati Dobbiamo saper trasmettere entusiasmo, far sognare, desiderare, avere speranza Saper stimolare ad una vera ricerca della verità perché la verità ci rende liberi Auguro a tutti voi di essere donne e uomini di speranza Il mio saluto e augurio va agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al personale, ai coordinatori, ai gestori delle scuole cattoliche Ma anche a tutti i ragazzi, a tutti i giovani, a tutti i bambini che inizieranno questo nuovo anno scolastico Buon anno scolastico a tutti!